www.mesmerism.info 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 Boni! Boni! E là! Regola! Eccola! Valo, valo! E' un attimo! Grazie! 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 Quali! Poi e' il Kevin Halter. C'è qua! Poi! 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 Oh, 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 si! Va bene, va bene! Giro, giro! Esce! Vai, vai, vai! Perciò, perciò! Davanti, davanti! Davanti! Dai! Calma, calma, non voglio venire! Non me, non me! Manitta! Vicky! Guarda il nostro Urbini! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai! Bene, bene! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Aventura il nostro equilibrio, davanti! Buongiorno! 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 Vieni, palo! Chiudo! Si, Orbe! Si, Orbe! Camin! Eh! Eh! Gira, 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 gira! Eh! Portala via! Portala via! Andiamo di là! Andiamo di là! Veloce! Andiamo a partire di là! Eh! Bravo! Vai! Arriva, arriva! Tira, arriva! Gira, gira! Gira! Veloce! Uno, due! Diamo un ritmo alla palla! Uno e due! Muoviamola! Uno e due! Eh! Eh! Veloce! Forse! Forse! Che è facile! Che è di via! Prepara il cambio! Ehi! Vole! Dai! Che è la parità! Che è via! Dai! Che è via! Sì! Che è via! Eh! Eh! Bravo! Bravo, Che è via! Dai! Che è via! Eh! I! Bravo! Si! Ambro! Si! Voi! dietro ehi guarda, guarda questa capo offensiva andiamo vai apri bracci 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 vai mano uomo Mario si Mario arriva arrivo arrivo avalisi Andfest arrivo 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 Non la tenere ferma, non la tenere ferma Stefano, non la teniamo ferma questa palla Allargiamoci, non ammucchiamoci tutti Non spiega a buscari, non è che non fa freddo Vai Vai Guarda ancora Guarda 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.